Rispetto all'ultimo trimestre 2015 le compravendite salgono del 7%, il tempo medio di vendita scende da 9 a 7 mesi e lo sconto medio passa dal 15 al 10% mentre i prezzi subiscono un ulteriore calo del 2,5%. Sono i primi dati 2016 forniti dal centro studio FIAIP, la più importante federazione del settore immobiliare con 12.000 agenzie aderenti in Italia e 500 a Roma e proprio gli operatori romani presso l'hotel Leonardo da Vinci hanno analizzato la legge di stabilità. Secondo il presidente nazionale Paolo Righi per la prima volta dal 2011 il governo cerca di aiutare concretamente il mercato immobiliare che dal 2008 ha visto le tasse salire del 160%, le compravendite dimezzarsi e la filiera perdere ben 800.000 posti di lavoro. Ottimo il taglio tasi sulla prima casa che non farà ripartire il mercato, dice Righi, ma rimetterà oltre 3 miliardi nelle tasche degli italiani. Per l'associazione tra le norme positive della legge di stabilità c'è anche quella sull'easing immobiliare che sostituisce il rente Dubai e lo rende più semplice. Presente anche il presidente di confedilizia Giorgio Spaziani Testa che giudica ottimo l'intervento sulla prima casa ma chiede al governo una norma per detassare gli immobili commerciali dati in affitto.